E benvenuti in questo mio episodio di Naruto Storm 2 Allora nel precedente episodio abbiamo visto che Naruto si è trasformato e si è una parte dei 4 code Quindi adesso dobbiamo fermarlo Prima che perda completamente il controllo Anche se mi sembra che l'heda perso Si non è qui Si non è qui Si, si è già iniziato a riuscire Questa è un po' di questo Questa è un po' di questo Il 9-tile seal è dissolvato Perciò 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 Vabbè Si va Perciò 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 questo qui una luce usato a trovare il secondo la storia Non c'è un po' di tempo. Proprio meno male. Ok è tutto normale quindi direi di seguire Saiya adesso. E' un gioco divertente che quasi ti è costata la vita. Sì, una pizza e una birra, grazie. C'è quello? Una lista di angry black ops, led direttamente da Hokage. Quindi, tu hai scoperto con questo, grazie. E? Tu dicevi che volevi negativi. Sì, questo non è un momento per una conversazione. E' un peccato. Peccato. Sì, è vero. Sì, è vero. Potremmo trovare questa seconda distruttura. No! E' troppo pericoloso per permettere Sai di andare così. Sì, signor! Un'alleanza segretta. Un'alleanza segretta. Un'alleanza segretta. Un'alleanza segretta. Un'alleanza segretta. Non c'è nessuno di qualsiasi trappi potrebbero aspettare per noi, io voglio... Avete visto la mia parola, tutte le stanze, sei proprio una piccola, ecco che un comore, 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 ecco che un comore. Che novità guarda, se sei andato con un Simaru, eh, è una parte di capirlo. Sì, è vero, ci saranno il comore, ecco che un 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 comore. Sì, ecco che era una piccola, ecco che un comore. Mi racconto, non era una piccola. Un comore, c'è treare qui. Katia, c'è una cosa che c'è di dire, per Mora. Mi c'è così sento, non c'è nulla, non c'è un c'è per pensare che per costruire, parmi aspettare. Adora, ecco che io sei! Torre il fatto una piccola. Va bene, diamo una bella lezione a Sai A meno così, visto che non ho potuto battere Kabuto, a meno me la prendo con lui va Grazie a tutti 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 Così si butta la spazzatura Grazie a tutti 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 E Grazie a tutti No Grazie a tutti No 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 Grazie a tutti 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 Grazie a tutti